Dopo domani il Consiglio regionale tratterà la nuova proposta della Giunta per l'istituzione della zona economica speciale a Gioia Tauro. Sul punto però arrivano le critiche del senatore Antonio Caridi del gruppo Gale, che lo ritiene un doppione. L'Aggiunta Oliverio, afferma Caridi, si sta ormai specializzando nel creare specchietti per le allodole. Anche con la ZES, nonostante ci fosse già una proposta di legge in Parlamento approvata dal Consiglio regionale, nella scorsa legislatura, si è deciso di farne un'altra e ricominciare da capo, allungando in maniera determinante i tempi per la sua realizzazione. A questo punto mi viene da pensare che il Partito Democratico calabrese, commenta Caridi, pur di attestare la vittoria politica della ZES, decida di creare i presupposti per non realizzarla mai. Quello che serve non è un'altra proposta di legge, ma una vera e propria volontà politica da parte del Governo, che fino ad oggi ha fatto solo slogan e passerelle durante le campagne elettorali, per poi insabbiare la proposta in Commissione. Si poteva tranquillamente emendare il testo nelle parti ritenuti utili, avendo iniziato la discussione presso l'apposita Commissione, udito i vari rappresentanti istituzionali e fatto visitare l'area al Presidente della Commissione Attività Produttive del Senato, il senatore del PD Mucchetti, insieme ad altri colleghi coinvolgendo le associazioni degli imprenditori e gli attori del territorio. Secondo Caridi, il testo che il Consiglio regionale si appresta ad approvare è quasi identica a quella in discussione presso la X Commissione Industria del Senato. Perciò mi chiedo, caro Mario, se ancora in tempo a risparmiare ai calabresi l'ennesima perdita di tempo. Il senatore Di Gall ribadisce poi che personalmente ho sempre offerto apertura e dialogo per il bene della Calabria e dei calabresi. Da relatore della legge in Parlamento non ho mai opposto di nego a interventi migliorativi del testo per raggiungere l'obiettivo della ZES. Mi auguro che si tenga conto del lavoro svolto, conclude l'esponente Regino Di Gall, e che stavolta i democratici calabresi facciano pressione al governo affinché si occupi finalmente di rilanciare il Sud e la Calabria.